Scusate Piazza Gramsci, centro cittadino, questa è la situazione del porfido che c'è a Novara, mi viene da ridere perché state facendo una campagna elettorale facendo vedere giraffe, tartarughe, ninja e di tutto e di più quando neanche due passi dal comune ci sono queste situazioni. Ballare, preoccupati di questi problemi qua, se qua uno inciampa, paghi fino all'ultima lira, datti una mossa e se non riesci vai a casa.